Sarà l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, una delle strutture di riferimento in Veneto per il progetto Honkab, Hospital Network for Cross Border Healthcare. Si tratta di una rete di ospedali europei per le cure transfrontaliere, un progetto sperimentale che simulerà scambi di informazioni, prestazioni e transazioni in vista di una maggiore mobilità sanitaria a livello europeo. I casi di emergenza sono sempre stati garantiti e lo saranno sempre. Si tratta di gestire quelli che sono gli interventi programmati, quindi il cittadino avrà l'opportunità di poter scegliere, oltre che all'interno della propria nazione, anche all'esterno. L'augurio che facciamo la sanità veneta e la nostra sanità in generale è quello di diventare attrattivi rispetto all'estero, quindi che i cittadini europei scegano Verona piuttosto che Treviso, piuttosto che Veneto. È un team di regioni che sta portando avanti questo progetto, vale un milione e mezzo circa, un milione e quattro per esattezza, e serve appunto a sistemare dei criteri, a mettere a punto e a strutturare quelli che saranno gli uffici che seguiranno la mobilità attiva piuttosto che passiva verso l'estero, la mobilità trasfrontaliere sostanzialmente. A settembre del 2013 la scadenza per l'attuazione di una normativa europea che prevede di regolamentare i diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria trasfrontaliera. Se ad oggi in Italia sono definite le modalità per l'assistenza sanitaria intraregionale, si va ora in direzione europea. I cittadini italiani potranno scegliere in quale paese europeo farsi curare in caso di interventi programmati e viceversa per i cittadini degli altri stati membri. Questo progetto è un progetto di cui si è fatto parte attiva il Veneto insieme con il Ministero e quindi cerchiamo di sperimentare in anticipo quello che potrebbe succedere dopo l'ottobre del 2013, cercando di fare un network tra ospedali di un certo rilievo italiani ed europei e simulare un po' quello che succederà. E poi l'altro tema è quello di riuscire a creare un network di ospedali europei dove si possano anche far transitare le informazioni e anche per il cittadino europeo sapere quello che verrà fatto a Verona, quello che viene fatto negli altri ospedali. Oggi il cittadino italiano che si trova in Germania e ha bisogno di sicuro viene curato, così come il cittadino rumeno che si trova in Italia e ha bisogno di sicuro viene curato. Cambia quando il cittadino tedesco decide, decide non in termini di urgenza, ma decide di andarsi a far curare un altro paese o viceversa il cittadino italiano che decide di andarsi a far curare un altro paese europeo. Ecco tutto questo va normato, va specificato e soprattutto la cosa importante è nel momento in cui vengono a curarsi qui dei cittadini europei noi li curiamo e poi devono esserci anche le transazioni economiche, cioè gli stati esteri ci devono pagare. E viceversa.